Catturavano i clienti sul web con tanto di foto accattivanti di spiagge bellissime del Cilento e del Golfo di Policastro ed annunci di locazione di case vacanze inesistenti o già occupate. Si facevano versare il 50% della quota tramite vaglia postale ed il gioco era fatto. Protagonisti della truffa una ventina di pregiudicati, tutti originari del napoletano e della provincia di Avellino, denunciati a piede libero alla procura della Repubblica di Vallo della Lucania per il reato di truffa. Secondo quanto riporta un pezzo sul quotidiano La Città di Oggi, vittime sarebbero una trentina di turisti quasi tutti del nord Italia. I vacanzieri, allettati dalle inserzioni su un sito che propone l'affitto di case vacanza sul mare del Cilento, sottoscrivevano i contratti via email, versando anche la caparda tramite un vaglia postale. L'inganno si svelava nel momento in cui i turisti giungevano a destinazione. I malcapitati trovavano infatti l'abitazione presa in affitto già occupata da altri, oppure utilizzata da l'ignaro proprietario o, nella peggiore delle ipotesi, addirittura inesistente. E da qui sono partite le denunce che hanno fatto scattare i controlli da parte dei carabinieri delle compagnie di Sapri e Vallo della Lucania. I militari hanno lavorato senza sosta per diverse settimane, fino ad individuare i responsabili della truffa online. Dal numero delle ricevute di riscossione che i carabinieri hanno acquisito nei diversi uffici postali interessati, è stato accertato che le truffe messe a segno sono state circa 30. Naturalmente le indagini sono ancora aperte per identificare altri responsabili. Intanto i militari dell'arma consigliano di prestare la massima attenzione nell'espletamento di pagamenti online. Le località turistiche maggiormente prese di mira da questi professionisti della truffa sono risultate Marina di Camerota, Palinuro ed Ascea.